Ben ritrovati amici del centro meteo italiano, flusso umido che sfiora l'Italia portando locali acquazzoni o temporali. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 30 luglio. Tempo stabile al mattino su tutta la penisola con locali addensamenti al nord ovest e sole prevalente altrove, specie al centro sud. Al pomeriggio ancora tempo stabile su buona parte della penisola con cieli sereni o poco nuvolosi. Acquazzoni o temporali sparsi possibili sulle Alpi ma con locali sconfinamenti anche verso le alte pianure. In serata è notata residui precipitazioni al nord ma in graduale esaurimento, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Temperature minime in aumento al nord e stazionari al centro sud, massime in rialzo al centro nord e in lieve calo al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.